Ciao a tutti e bentornati sul canale Nuova video ricetta Oggi vi voglio mostrare come realizzo praticamente dei cupcake di Halloween Più che spaventosi sono pucciosi come questo, che dovrebbe essere un fantasma Potrebbero essere delle idee carine per magari dei bambini o se dovete fare una festa appunto con dei bambini Sono facilissimi da realizzare Io vi lascio al tutorial Vi raccomando e fatemi sapere cosa ne pensate Ciao! Come prima cosa ci versiamo la farina, il cacao, lo zucchero e il lievito quindi tutti gli ingredienti in polvere Di lievito ne basta veramente pochissimo Se non avete il lievito potete utilizzare il bicarbonato di sodio In un'altra ciotolina o un altro baker mischiate invece gli ingredienti liquidi ossia il latte, l'olio e le uova Unite il composto liquido a quello in polvere e continuate a mescolare Preparate le formine da cupcake e inseriteci all'interno il composto che deve essere di un cucchiaio e mezzo non di più Infornate i vostri cupcake a 180 gradi in forno statico per circa 15-16 minuti Per la crema che andrà al di sopra del cupcake monto la panna già zuccherata e all'interno di essa, una volta montata, vado ad inserirci il mascarpone Continuo a mescolare e lascio una parte di questa crema bianca mentre l'altra la coloro di arancione Con quella bianca andrò a fare i miei fantasmini Con quell'arancione un altro cupcake che dovrebbe somigliare ad una zucca Per gli occhietti dei fantasmi utilizzo delle semplicissime gocce di cioccolato Mentre le zucche le decoro con degli smarties Questo è tutto, spero tanto che il video vi sia piaciuto Se è così mi raccomando lasciatemi un bel pollice in su e fatemi sapere che cosa ne pensate se li fate Mi raccomando iscrivetevi anche al mio canale e a tutti i miei social Vi mando un grossissimo grossissimo bacio e ci vediamo presto in un nuovo video Ciao